Stupore, sconcerto, incredulità. Sono questi i sentimenti che pervadono Vibo Valencia, l'indomani del blitz degli uomini della Guardia di Finanza, che hanno fatto luce sulla gestione del sistema bibliotecario vibonese, arrivando addirittura a porre agli arresti domiciliari gli ultimi due direttori. Valentina Amadeo, attualmente dipendente comunale e operativa proprio nel settore cultura, e Gilberto Floriani, finora accreditato tra gli intellettuali di una certa influenza in città, la cui azione all'interno dell'ente culturale ha portato a porre sotto inchiesta pure tre dei suoi figli. Stupore, si diceva, perché è pesante l'accusa. Gli arrestati, secondo gli investigatori, si sarebbero appropriati indebitamente di somme di poco superiori a 230.000 euro, destinandole, tra l'altro, a propri congiunti, mediante il conferimento diretto di incarichi in palese conflitto di interesse, ed eludendo le disposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego. Sconcerto, perché, sempre secondo l'accusa, i bilanci sarebbero stati manipolati con lo scopo di dare false informative economico-finanziarie attraverso una rappresentazione furviante della situazione reale. Una gestione illecita, insomma, che ha portato al dissesto dell'ente che, nel periodo oggetto di indagine, evidenziano gli inquirenti, ha maturato un debito di circa 700.000 euro. Incredurità, infine, perché si fa fatica a pensare che una figura che si attestava tra le più attive nel panorama di una certa area intellettuale, oggi viene accusata di aver continuato a condizionare le scelte e la complessiva gestione del sistema bibliotecario vibonese, nonostante, per come osservano gli inquirenti, si dovesse ormai occupare di questioni prettamente tecniche e non di interesse amministrativo, in base alla sua nuova mansione, tra l'altro acquisita, con procedura illegittima, continuando a rappresentare l'ente all'esterno, in quanto suo interesse, a giudizio degli inquirenti, era quello di permanere all'interno della struttura organizzativa, al fine di poterne condizionare le scelte. Certo, nessuno è colpevole fino a quando una sentenza non lo stabilisce in maniera definitiva, ma, soprattutto, rimane un'ultima considerazione, la più importante. Gravato da un debito mostra e con i suoi ultimi dirigenti domiciliari, mentre l'inchiesta, in molto probabile, non possa ritenersi conclusa, la città e tutto il suo mondo intellettuale deve ora agire affinché l'eccezionale patrimonio che il sistema bibliotecario custodisce, oltre 80.000 volumi, e la sua storia di punto di riferimento per studiosi, studenti e uomini di cultura non vada disperso, non crolli drammaticamente, e la città continui a risplendere, grazie, attraverso la cultura.